Il Catania viene beffato con un lungo tiro di punizione di Bredi che scavalca tutta la difesa catanese e Mancini spiegabilmente lasciato libero da Ranieri non ha alcuna difficoltà da appoggiare in rete. Luvanor con un grandilo di punizione dal limite colpisce il palo, ne approfitta Pedrinho che coglie al volo il rimballo e per Bordon non c'è nulla da fare.